A 33 anni si chiama Gioia Marco Longo ed è lei la nuova proprietaria della villa di via Sabbioni a 90 Padovana, appartenuta a Freddy Sorgato e Teatro, secondo gli investigatori, del delitto di Isabella 90. L'immobile è stato venduto all'asta mercoledì 18 settembre, ad aggiudicarsela una giovane padovana che ha partecipato, partendo dalla base d'asta di 255.750 euro. Ha partecipato all'incanto anche un'altra persona che ha proposto un solo rialzo, alla fine ha vinto la 33enne con un rilancio che ha chiuso la vendita a 261.750 euro. Gioia Marco Longo ha dichiarato di essere emozionata, anche se ha confessato di non sapere ancora se andrà ad abitare in quell'abitazione o se verrà messa a reddito. Il denaro della vendita andrà alla famiglia di Isabella 90, come stabilito dai giudici del primo e secondo grado di giudizio che hanno condannato i due fratelli Sorgato, Deborah e Freddy, a 30 anni di pena e a 16 anni la complice, la tabaccaia veneziana Manuela Cacco. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, Isabella 90 sarebbe stata uccisa in quella villa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 da Freddy e Deborah, che poi si sono liberati del corpo gettandolo nel Brenta. La complice Manuela Cacco si sarebbe presentata invece solo in un terzo momento per la messa in scena, indossando il giubetto di Isabella e passeggiando in centro a Padova per farsi riprendere dalle telecamere e fingere così una fuga volontaria della vittima. A confessare la messa in scena è stata Manuela Cacco che ha accusato gli altri due. Il processo ora attende ancora il verdetto della Cassazione. Intanto la procura di Rovigo sta analizzando in questi giorni alcuni frammenti di ossa trovate nella spiaggia di Albarella lo scorso agosto e che qualcuno ipotizza possano appartenere proprio al cadavere mai ritrovato di Isabella 90. Grazie a tutti.